I monaci francescani, il cui scopo era aiutare i poveri, hanno commissionato a Caravaggio questo dipinto che adesso si trova nel Museo regionale di Messina. Eccolo. È la natività di Caravaggio. Volevo che lo vedessi semplicemente perché è una delle mie opere preferite. Lo trovo uno dei dipinti più commoventi che ci siano. Rappresenta i siciliani poveri, gente quasi senza speranza che conduceva una vita difficile. Quest'opera si stringe intorno a loro in un abbraccio. Sì, quindi la Sicilia lo ha colpito allora. I siciliani, la povertà, hanno influenzato il suo modo di dipingere. Decisamente. È il pittore che più al mondo si immedesima nel luogo in cui lavora. Se è a Napoli, dipinge città piene di gente. Se è a Malta, allora dipinge soldati. Giusto. E quando è in Sicilia, dipinge i poveri. Mi viene da chiedere se non abbia dipinto questo quadro per i suoi peccati, per aver ucciso un uomo. Cosa può fare per rimediare? Beh, può fare questo gesto. È tutto ciò che ha. È prezioso. Non ha soldi. Non ha altro se non il suo talento. E lo dona. Andrew, sembri triste. Triste. Quest'opera... Mi rende triste. È un dipinto tetro perché... A parte tutto il resto, è il soggetto ad esserlo. Per me non è solo Maria con suo figlio, Gesù Cristo. È ogni madre rifugiata che vive una situazione difficile in un periodo faticoso. È la difficoltà del povero. Il quadro dovrebbe ricordare che anche Cristo non aveva molto. Dona speranza ai poveri, ma lo fa in maniera cupa. Sotto molti aspetti non è eseguito molto bene. Guarda la spalla. C'è qualcosa di strano nel pastore centrale. È anatomicamente imperfetto, ma... Sai che c'è? Non mi importa. Quando si sente parlare di questo grande pittore, ci si immagina qualcosa di incredibile. Ma c'è una bellezza che riporta a come erano le cose in quel momento. Per ricordare che anche il figlio di Dio era umano. E un tempo era... Era un bambino. Un bambino siciliano. Un bambino siciliano.